Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati prorogati al 2022, ma non per tutto. Prima di continuare, lascia mi piace al video, iscriviti al canale e verifica le condizioni dell'abbonamento, che se vuoi supportare la produzione dei contenuti che faccio e il lavoro che faccio qui su YouTube, puoi abbonarti e accedere ad una playlist di video che aggiorno settimana per settimana, che sono esclusivi per gli abbonati. La cessione e lo sconto finalmente sono stati confermati per tutto il 2022. Ma che cos'è la cessione e lo sconto, prima di dirti perché non sono stati prorogati per tutti i bonus? La cessione e lo sconto in fattura sono quelle opzioni alternative alla fruizione diretta del credito maturato dalle agevolazioni per la ristrutturazione edilizia piuttosto che di efficientamento energetico, opzioni che danno possibilità di non sborsare economicamente tutta la cifra oppure di vedersi riattribuita la cifra che uno ha sostenuto magari o tramite un finanziamento o con le proprie forze in modo veloce e relativamente subito rispetto alla fruizione in 5-10 anni prevista dalle normative. La cessione e lo sconto vengono fatte. La cessione può essere fatta verso tutti i soggetti piuttosto che anche alle banche o agli istituti finanziari, alle società di assicurazioni. Lo sconto in fattura viene applicato dai fornitori, direttamente dai fornitori, cioè ti possono scontare il credito maturato sulle proprie competenze, non su quelle di altri fornitori. L'articolo 121 del decreto rilancio del 2020, del decreto legge 34, che ha introdotto il superbonus, ha regola, norma, la cessione e lo sconto ed elenca quali sono gli interventi che possono essere agevolati con cessione e sconto, quindi in alternativa alla fruizione diretta. Il superbonus è il principe, cioè il superbonus a 110% è quello che ha dato il via e che può essere scontato o ceduto. Ma l'articolo 121 ha incluso anche tutti i bonus già esistenti. Il bonus casa al 50%, l'eco bonus con le percentuali inferiori rispetto al 110%, il sisma bonus quando questo non può essere fruito con il 110, il bonus facciate, la relativamente ormai non più recente agevolazione che riguarda le parti opache delle facciate degli immobili che sono ubicati nelle zone A o B, quindi nelle zone edificate nei centri storici, il fotovoltaico, le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici. Ecco, tutti questi interventi, che sono di ristrutturazione piuttosto che di efficientamento energetico, possono essere agevolati e il credito maturato può essere ceduto o scontato. La norma prevedeva fino al 31.12.2021 la cessione e lo sconto per tutti gli interventi, compreso il superbonus. La legge di bilancio 2021, quella del 30 dicembre scorso, aveva inserito il comma 7 bis all'interno dell'articolo 121 che prorogava al 2022 la cessione e lo sconto per quanto riguarda il superbonus. Proroga, inserimento, del quale ti ho parlato in recenti video, che era subordinata all'approvazione del Consiglio dell'Unione Europea, che è arrivato lo scorso 13 luglio, ne ho parlato in recenti video, quindi vatteli a recuperare anche nella live, quindi vai a recuperare questi video che possono esserti molto utili. Attenzione però, come ti ho detto, la proroga al 2022, quella contenuta nel comma 7 bis, è solo per il superbonus, non è per tutto. Quindi interventi sisma bonus 110%, sì 2022, ecobonus 110%, sì 2022, colonnine di ricarica e fotovoltaico congiuntamente realizzati al 110% con gli interventi trainanti, sì al 2022, mentre l'ecobonus classico, ordinario, il sisma bonus ordinario, le colonnine di ricarica piuttosto che gli impianti fotovoltaici, o la ristrutturazione al 50% per le lettere A e B del TWIR, magari ci farò un altro video su questo, perché non tutto il bonus casa è cedibile o scontabile, questi interventi non sono previsti ancora per il 2022 per la cessione o lo sconto, non sono previsti alcuni di essi, così come il bonus facciate che mi sono dimenticato, non sono previsti alcuni di essi ancora per il 2022, perché solitamente, come tutti gli anni, come succede da quando esistono le agevolazioni, perché non sono nate con il superbonus, anno per anno, a fine anno, con le leggi di bilancio, vengono prorogati per l'anno successivo, il 50% non esiste di per sé, c'è il 36%, il 36% aumentato al 50% viene prorogato anno per anno, così come il bonus facciate che è nato nel 2020, il primo anno sì, è nato a fine 2019 per il 2020, quindi questo è il secondo anno del bonus facciate, cioè vengono prorogati anno per anno, quindi già non esistono per il 2020, e comunque la cessione e lo sconto per questi interventi, anche dovessero esistere, non è stata prevista nella legge di bilancio scorsa, quindi è solo per l'articolo 119 del superbonus. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ci dobbiamo aspettare che a fine anno vengano prorogate tutte queste agevolazioni, come succede solitamente, e venga anche introdotta una proroga o un allargamento per la cessione e lo sconto dell'articolo 121, anche per queste e per gli anni successivi, per l'anno successivo, per il 2022, e così abbiamo risolto il problema. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie a tutti.